Cocco bello di questa gran tega POPEO di Youtube Mi sono mastano in versione Padovan Eh, sto cocco bello Di questa indigesto Indigesto ragazzi Peccato Primo stop del Padovan Allora, innanzitutto dobbiamo avere la consapevolezza Che Insomma abbiamo fatto tante vittorie consecutive Che è arrivato uno stop Ci sta dopo un po' Contiamo anche che era la terza partita Nella stessa settimana Anche se per me non è stato un problema di energia Il callo che abbiamo avuto E poi sto cocco È stata una mila vagante tutta la partita E prende la traversa Ha una certa, si gira, tira una bomba E tra poco fa gol da metà campo Con Donnarumma sorpreso E dopo mi fa anche il gol Che sbuca bene Insomma, là al centro dell'aria Anche se stiamo stati disattenti noi Secondo me È quasi più demerito nostro che merito suo Dopo lui ha tirato bene, eh, che discorsi Bravo, ha fatto una gran partita A me è stato anche il miglior in campo in assoluto Sto cocco qua Eh, del serengo Vabbè Che devo dire ragazzi Poi Noi allora Anche questo va detto Dobbiamo chiuderle ste cazzo di partite Dobbiamo chiuderle Perché abbiamo fatto un primo tempo buono A parte della parte finale Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo Segni anche relativamente presto Con Santini Che era una vita anche che non segnava Eh, anche un bel gol Anche se c'è stata una deviazione Comunque l'hai 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 trovato questo gol Anche veniva da buone prestazioni E se l'è meritato questo gol Eh, poi hai altre occasioni Hai sempre con Santini Ne hai un'altra clamorosa Però non sei riuscito mai a chiuderlo Oppure arrivavi sempre lì Non riuscivi a concludere Magari tante volte è successo E quindi non sei riuscito a chiudere sta partita Hai continuato a giocare Poi cosa succede? Arriva il secondo tempo Iniziano a giocare di più loro Noi iniziamo a calare alla lunga Pavanel può fare dei cambi Un po' in cui abbassa la squadra Per esempio quando mi toglie Ceravolo Mi butta detto Saberreich Mi abbassa la squadra E quindi mi passa una sorta di 4-4-2 Con Ronaldo più spostato sulla tre quarti Oggi Ronaldo ha fatto un po' Ieri Ronaldo ha fatto un po' fatica A trovare la posizione Un po' ha giocato mezzala E un po' ha giocato dietro Dietro la difesa avversaria È forte sempre Per me è il nostro miglior centrocampista Però ha avuto difficoltà Nel trovare la posizione Chiricò invece ha fatto una buona partita Devo essere sincero Però anche lì secondo me Lo togli, metti Jelenic Jelenic rinunci un po' all'attacco ancora Quindi diciamo Abbiamo perso troppi metri Loro ne hanno guadagnati E dopo alla fine il gol Arriva su una disattenzione multipla Perché c'è la rimessa laterale Chirua che si è fatto fregare In maniera goffa L'altro che la mette in mezzo Curcio che non chiude A sinistra c'è l'uomo libero Poi la rimettono indietro St'altro sbuca e tira E trova lo spazio Disattenzione generale Come non sono contento Delle palle inattive ragazzi Le palle inattive subiamo troppo Spesso la prendono gli altri E questa cosa non va bene ragazzi Poi io come ho detto Va bene Ci sta uno stop Io sono consapevole Che siamo una bella squadra Però bisogna imparare A chiudere le partite E anche magari a gestire meglio Poi io Insomma Non posso che essere orgoglioso Del Padova Perché Mi ha sempre dimostrato Di giocare la partita Di fare la partita E sono certo Che adesso La prossima Colleco Rimedieremo Insomma questo pareggio E ritorneremo a vincere Dai Forza ragazzi Non è successo nulla Uno stop Che ci può stare Adesso Guardate La squadra che In questo momento Io ho dato anche un po' Un'occhiata agli altri La squadra che Gioca meglio In questo momento È il Sud Tirol Ragazzi Il Sud Tirol È una squadra Rompiscatole Più ancora Della Pro Vercelli Perché io pensavo La Pro Vercelli Fosse la squadra Peggiore Come avversario Invece In questo momento Almeno Il Sud Tirol È in un bel momento Quindi Penso che riusciremo A ottenere la promozione Perché Io su questo Non mi nascondo Però Occio perché Ce la lotteremo Secondo me Con questi A questi non ci lasciano Vincere facile Ma d'altronde È normale Tutti vogliono vincere Vabbè dai Comunque Niente Poi Volevo fare anche Complimenti a Busellato Che mi è piaciuto molto È stato uno dei migliori In campo dei nostri Molto bene E Niente Poi l'ultimo appunto A Pavanel Sì Ho provato alla fine A mettere dentro Terrani Biasci Però Troppo tardi Troppo tardi Secondo me Poi anche Jelenic Cazzo Ti sei cagato Il gol In quella ripartenza Avevi Eravate tre contro tre Cazzo Passala sta palla Se vedi che Non hai lo spazio giusto Per trovare il tiro Passala Vedi anche lì Mancanza di precisione Bisognava chiuderla Sta partita Comunque Va bene così Dai Siamo comunque In testa Sottirò da una partita In meno Vabbè Comunque siamo in testa Non è successo niente Avanti così Ragazzi Comunque Perché le prestazioni ci sono Continuiamo sempre a imporre il nostro calcio Avanti Padova Ragazzi Iscrivetevi al mio canale Se volete Se volete Mettete mi piace Seguitemi anche su Instagram Forza Bianco Scudati Ciao